Questo è Sentimento Chizomba, Sentimento Chizomba è la scuola di ballo voluta, ideata, realizzata da Anna e Roby. Un applauso! Molti di coloro che si esibiscono questa sera hanno iniziato da pochi mesi, tutti possono ballare questo ballo. Sono certo che a qualcuno dei presenti verrà voglia di cominciare. Sentimento Chizomba è a Camignone, Roby e Anna. Grazie di tutto! Un applauso ancora a questi! Grazie! Cina a due! Cina a 163! Cina a 163! Cina a 163! E' una partenza, è una partenza, è una partenza.